Hai intenzione di lavare la roba degli altri in eterno? Butti la metà dei tuoi soldi per quella ubriacona di tua madre. Sei così bella. Fatti fare delle foto. Cosa? Ciao, sono Angelina. Ora copriti un pochino le tette. Bene, bene, così va bene. Sei una ragazza in gamba, a dispetto di tutto. Avrai un gran futuro. Ok, ci siamo. Hai solo quello? Sì. Non riesci a crederci. Forse è lì. I numeri vari sono di qua. Ok. Tieni. Le porto il resto. No, è una mancia. Sai una cosa? Cosa? Dovresti ballare. Potresti guadagnare molto di più. Un giorno incontrerai la persona giusta. E si chiederà dove sei stato nascosto per tutto questo tempo. E se io trovo la persona giusta? E lei invece non trova me. Perché vuoi entrare nel mondo del porno? E perché hai scelto di farlo con noi? Adoro fare e provare cose nuove. E poi mi sembra più sicuro rispetto al lavoro in un club. Sono ottime ragioni. Sì, possiamo farti fare tante cose nuove. Salve, io sono Cherry. Intrati amici. E poi potrei fare quello che vuoi. Ma è forte, proprio come un giocatore. Ma è forte, proprio come un giocatore. Ma è forte, ma è forte. Ma dovrei provare a farlo. Bisogna conoscere la nostra forza e i nostri limiti. Solo se conosci i tuoi limiti puoi migliorarti. For the flowers in my hair.